Il nuovo piano di assunzione della tua alla base delle divergenze che in queste ore si stanno verificando tra l'azienda di trasporto unico della nostra regione e i sindacati. Per le segreterie l'assunzione di 127 operatori da smaltire nelle annualità 2022-2023 sono del tutto legittime da parte dell'azienda ma c'è bisogno di un nuovo bando per dare a tutti, specialmente a chi ha lavorato in azienda come interinale, di poter migliorare la propria posizione. Questo bando non deve prevedere penalizzazioni in termini retributive e contrattuali per questi lavoratori che hanno già, che si sono già formati nel tempo. Questi non hanno bisogno di avere un percorso formativo quindi è inaccettabile, intollerabile che ci siano penalizzazioni retributive e salariali. E' la vostra richiesta per riaprire un confronto proprio con l'azienda? Guardi la nostra richiesta è da due anni quella di assumere personale, lo abbiamo fatto attraverso quattro scioperi, ci sono oggi mentre parliamo tre vertenze aperte in Lanciano, Pescara e Teramo, mentre parliamo saltano corse, dal primo al 31 gennaio sono state soppresse 136 corse per carenza di personale. Se questa è la tua che rispetta gli accordi noi capiamo benissimo il nervosismo di Giulianti ma i cittadini e i lavoratori aspettano risposte. Il continuo ricorso all'interinale è l'alternodo da sciogliere, per i sindacati queste figure vengono utilizzate per coprire turni gravosi. Noi sappiamo per certo che questa cosa sta nei limiti della legalità, invece questa azienda continua in perterrita ad utilizzare questo interinale. Il problema è incentrato tutto qui perché l'azienda vorrebbe che noi firmassimo un accordo dove i neoassunti avessero lo stesso trattamento degli interiniali, ancorché secondo noi illegittimo. Sotto la lente di ingrandimento delle sigle sindacali non solo i lavoratori ma da qualche tempo è finito anche il bilancio della stessa azienda di trasporto. Con la passata amministrazione tua aveva 1.600 dipendenti, oggi tua ne sono scarsi 1.300. Non erogava un premio di risultato a tutti i dipendenti di un valore di 1.400.000 euro, oggi non viene dato più e per di più vengono date delle subconcessioni dove l'azienda tua da subappaltatore ricava 50 centesimi a chilometro a differenza della prima amministrazione, quindi mi corre l'obbligo se noi le sovrapponiamo queste due cose vedere che effettivamente la tua sarebbe abbondantemente sotto il passivo.